Perché l'imperatore Teodosio decise di non svolgere più le Olimpiadi? Nel 393 d.C. l'imperatore Teodosio, colui che aveva reso la religione cristiana religione di stato, decise di non svolgere più le Olimpiadi. Per quale motivo? Semplice, perché le Olimpiadi erano i giochi che dovevano onorare il padre degli dèi Zeus e Mal si conciliava una festa pagana dopo che la religione cristiana era divenuta religione di stato con l'editto di Tessalonica nel 380 d.C. I pagani dopo questo atto vengono perseguitati. La religione cristiana era l'unica lecita. Chi non diveniva cristiano veniva ucciso.